intelligenza edilizia sono ironico io ho una ricetta magica per spiegarti come perdere sicuramente una causa naturalmente il full control di questo video non è spiegarti come perdere una causa ma è come fare in modo di non perdere una causa non sul fatto che tu abbia ragione o torto per la legge ma sul fatto che tu non sia in grado di fornire la documentazione al tuo avvocato ti faccio una premessa di base nel processo sia civile che penale non conta chi ha qual è la realtà di tutti i giorni ma sì il processo è basato su una realtà giudiziaria la realtà giudiziaria è basata sulle prove se tu dici se tu dici ero d'accordo di trovarmi il giorno 5 di maggio in cantiere perché il 4 maggio c'era stato un allagamento e dovevamo trovarci la finché la tua controparte in qualche maniera non dice che è vero il fatto che voi vi siate accordati di andare la 5 maggio non esiste lo devi dimostrare con una mail con un whatsapp con una telefonata registrata perché ti ricordo per l'ennesima volta che registrare le telefonate se tu sei uno dei due che sta parlando e quindi è attivato la registrazione del tuo cellulare è legale ok ed è prova provare vuol dire dimostrare quello che io sto dicendo quello che io sto asserendo per cui quando io vado a spiegare al giudice cosa è successo se riesco a dimostrarlo per il giudice è vero ok e io se ho una ricostruzione il più precisa possibile di quanto è accaduto per i miei fini cioè per dimostrare al giudice quello che voglio dimostrargli per me è più facile vincere una causa facciamo il contrario meno elementi mi dai per dimostrare quello che voglio dire di come sono andate le cose più la mia speranza di vincere quella a causa in realtà si basa sulle difese di controparte che dovrà confermare oppure contestare la mia ricostruzione quindi se ho un messaggio da parte della mia controparte che mi dice guarda sto parlando proprio di un whatsapp va bene allora troviamoci domani alle 11 e poi e io lo dico al giudice e gli dico eravamo d'accordo ok se ti ricordi ho detto ci eravamo accordati di andare non sono andato perché dopo se devo dimostrare che ero presente lo devo fare in un'altra maniera che potrebbe essere una telecamera potrebbe essere qualche altra la presenza di un testimone e via discorrendo ma funziona un po tutto così un po tutto basato su questo una volta quando era tutto cartaceo d'accordo chiaramente scrivere una lettera nella quale un telegramma si diceva domani troviamoci nel tal posto diventava piuttosto complicato per l'avvocato e quindi per la difesa del proprio cliente oggi abbiamo whatsapp e normalmente la vita di una vicenda la ricostruiamo con whatsapp tante volte però lo facciamo con la mail perché al giorno d'oggi anche se le cose stanno un po cambiando lo vediamo soprattutto negli Stati Uniti si usa ancora per ragioni professionali molto più la mail che whatsapp e quindi dobbiamo avere tutte le mail però tante volte nelle mail ci sono tanti allegati e tante volte quegli allegati restano nella mail quindi come i whatsapp restano all'interno del telefonino quindi se io non ho un backup e perdo il telefonino sono fregato in realtà il whatsapp con un backup tante volte non basta ma la regola sarebbe che se voglio utilizzare dei messaggi contestati via whatsapp devo dare tutto il cellulare al giudice oppure se quelle mail magari io cambio fornitore di email magari le perdo perché non le ho registrate quindi affidarmi alla posta elettronica che rimane all'interno del server o affidarmi alla memoria del computer del telefonino per quanto riguarda whatsapp è assolutamente folle ok ti dico la verità è folle ti chiedo una cosa dalle mie parole hai capito che ti sto dicendo che quando arrivano le mail tu devi prendere la mail e la devi registrare all'interno del fascicolo di quel cantiere quando arrivano i whatsapp almeno lo screenshot e lo devo inserire all'interno di quel cantiere per esempio quello che ti potrei suggerire è creare un gruppo in whatsapp che si chiama cantiere tal dei tali all'interno metto le persone di riferimento compreso il cliente e quella è la chat che riguarda il cliente periodicamente registro tutti i messaggi li metto e li metto dentro la cartellina nel computer e quindi è un altro modo per avere un'archiviazione della parte comunicativa molte volte la causa si gioca tutto su come sono andati i fatti e su come li posso dimostrare che sia andata così e tu sapendo nella tua testa importantissimo 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 che quella chat l'hai creata per tutelarti un domani non scrivere stupidaggini non fare promesse stai attento a quello che scrivi perché quelle cose potranno essere usate contro di te in tribunale un domani come potrebbero essere la tua ancora di solvezza perché l'errore lo fa il cliente un'altra cosa poi ci sono tutte le altre documentazioni computometrico contratto fatture bonifici fornitori materiale bla 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 come sei organizzato fotografie sacrosante fotografie del cantiere ogni giorno le fotografie tutte le sere tu come hai organizzato questa parte un modo di organizzare molto semplice è sicuramente quello di creare delle cartelline le cartelline del tuo computer dove magari dividi in sezioni e si butta tutto dentro la è un modo non è sbagliato ti porta via più tempo del normale sei meno organizzato ma come primo passo va bene e fallo cioè questo fallo da domani mattina organizzati perché tutto il cantiere finisca dentro quella cartella madre che all'interno delle cartelle figlie ma ragiona anche per una cosa diversa ragiona per diventare 5.0 ragiona per diventare un imprenditore intelligente devi dotarti di un software gestionale che ti organizza tutte queste cose qua ti deve compilare automaticamente i contratti ti deve compilare automaticamente la varia documentazione deve tenere tracce di tutto quello che viene fatto deve avere i tuoi processi produttivi inseriti dentro ci sono delle aziende che fanno questi software vai su internet scrivi software per imprese in edilizia software per cantiere scrivi quello che vuoi cercali valutali spendi spendi e spendi chiedi un periodo di prova per poterlo valutare con un cantiere in particolare in modo che provate a vedere cosa vi va bene e dopo di che avrete tutto all'interno di quel software se è tutto mappato se è tutto processato tutto andrà bene può essere che tante volte quando insomma può essere quando arriverai ad un certo livello avrei anche bisogno di una persona che sia dedicata a verificare che tutto venga fatto bene cioè che fa la parte di controllo l'indirizzo lo dai tu il controllo glielo fai fare un altro perché ogni soggetto che opera in quel cantiere salvo l'ultimo manovale ovviamente ti parlo di chi crea azioni e documenti utili per quel cantiere dovrà metterci le mani quindi sarà un software sicuramente che può essere utilizzato tramite telefonino per esempio se tu hai un capo cantiere che tutti i giorni va a fare un giretto in cantiere tutti i giorni va in cantiere più che un capo cantiere voglio pensare invece all'architetto di riferimento lui va lì fa le foto e te le manda magari un architetto che fa parte del tuo team ecco insomma una cosa del genere tu gli avrai assolutamente tutto questo collegato già via whatsapp ci sono dei software che sono straordinari e che ti toglie ti daranno la vita è linfa pura quindi il mio suggerimento è se tu non stai tenendo organizzato tutto in pdf comincia a farlo numero due organizza tutto in cartelline tutte precisamente uguali primo sal secondo sal terzo sal e all'interno foto documenti di un certo tipo documenti di un altro tipo eccetera contrattualistica contratti verbali varianti ok te lo strutturi e questa è la partenza una volta che hai fatto questo e vi siete abituati a che le cose vanno lì passa un software gestionale che valuterai tu secondo le tue esigenze il tuo budget cercando ovviamente chi te lo vende anche tramite internet o tramite i tuoi le tue agenzie spendi tanti soldi li investi veramente tanto nel software gestionale è fondamentale per te per lavorare bene per non avere le cause e se dovesse esserci una causa avrai tutto il materiale dell'avvocato sono tutto mappato per cui non ci sono errori e impara a scrivere 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 telefono sì però se è una cosa importante poi per inventati il modo ma scrivi e ricevi un ok dall'altra parte in modo che l'abbiamo formalizzato seguimi sui canali sui sociali campanellina e metti mi piace mi raccomando e ci vediamo al prossimo video ciao